Sono tre le stanze pervenute agli uffici di Palazzo San Francesco per la gestione delle tensostrutture e località incoronata. Di queste una è stata esclusa poiché è ritenuta inammissibile, per cui restano due candidati in corsa. Le due tensostrutture rimaste chiuse per anni tornano così a disposizione della cittadinanza e dei tanti appassionati di tennis presenti a Sulmona nel territorio circostante, garantendo così la pratica dello sport anche nei mesi freddi dell'anno. Su indicazione dell'assessorato allo sport, gli uffici di riferimento, coadiuvati alla ripartizione tecnica, hanno risolto le problematiche catastali e hanno dato seguito ai lavori di ripristino dell'impiantistica danneggiata e la bonifica degli ambienti degradati dall'inutilizzo dell'impianto. Gli obiettivi dell'amministrazione sono quelli della rivalutazione delle strutture nel rispetto della loro destinazione e della loro valorizzazione delle attività sportive, come leva per l'integrazione sociale, rivolte pertanto a tutta la popolazione, con specifica attenzione ai bisogni dei soggetti portatori di fragilità, garantendo spazi giornalieri e privati cittadini che vogliono praticare il tennis liberamente.